Spettatore ovviamente interessatissimo per molte giocatrici, Amore Croce nazionale. Allora, lei ha visto una partita, credo che per alcuni momenti è stata veramente entusiasmante. Una partita comunque ha visto un fame da Berretta Schio avere un carattere europeo. Sì, come ha detto lei, partita entusiasmante, partita spettacolare. Quando vieni a vedere Basca Femminile c'è questo spettacolo veramente molto divertente e bello. Fammi la Schio è super, aveva una partita difficile, una squadra che veniva da un ottimo momento. Mi sembra che abbia fatto stia confermando il buon momento delle ultime prestazioni. e direi che speriamo che riesca ad andare in una buona posizione nella griglia anche in Europa per riuscire a trovare anche con un po' di fortuna quegli accoppiamenti che ci vuole anche fortuna possano portarla, possa avere un po' di fortuna. Abbiamo visto un'intensità in certi momenti della partita che in campionato purtroppo ancora non si vede. Sì, però bisogna anche rispettare un avversario come questo che è un avversario molto forte per cui forse le motivazioni aumentano, forse la concentrazione sale e chiaramente anche l'intensità. In campionato quando sai che forse puoi controllare inconsciamente forse si abbassa un pochettino l'intensità. Grazie.